Il mister mi conosce bene e quindi sa come tirare fuori il meglio di me, quindi sa che è il test di toccare. È una cosa che avevamo voglia di fare, di festeggiare con i tifosi, di goderci quello che onestamente ci meritiamo e quindi non vedevamo l'ora di festeggiare. Grazie